Francia, 29 giugno 2014, ultimi due giorni di caccia al cabriolo, sono le 6 e 10 del mattino e sono su uno dei tre stand dell'amico Tony Veyer, la sante, c'è movimento di animali, chissà, magari sarò fortunato, a dopo la sante, c'è movimento di animali, chissà, magari sarò fortunato, a dopo 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 a dopo